Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! A te! Oggi abbiamo a che fare con l'esercizio di preparazione fisica di gioco per le gambe. L'esercizio è semplice, ci devono ribalzare una volta per terra e una volta sul tappeto fino in fondo. Arrivati in fondo devono fare saltavati e non cadere. Piano piano allarghiamo i tappeti. Vai via! Vai via! Alas! Guido! Adesso! Adesso! Eliminato! Puoi rientrare sul metano se si sottopare in due stagiavanti di tutta. Questo va bene qua, allungate! All'altra! Ancora, ancora! Ancora? Vai! Ok! Ok! Bravo, Mathio! sì 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 bravo quindi vincitore fate un bel saluto ciao e ci vediamo nel prossimo video bravo bravo c sì 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 Grazie a tutti.